Ormai ci siamo, anche a Cermignano partono le manifestazioni estive. Estate Cermignanese su cosa puntate, Sindaco? Sì, allora torna l'Estate Cermignanese, la seconda edizione, un format che si mantiene naturalmente sulla linea dell'estate da vivere insieme per ridare un periodo di condivisione, per ridare vitalità al centro e anche alle frazioni perché sarà un'estate itinerante. Riguarderà un po' un format composito e trasversale che abbraccerà dai meno giovani ai più giovani. Partiremo il sabato 8 luglio a Saputelli, saremo con i Soundbeaters, che è un gruppo che, come abbiamo detto, quest'anno il tema sarà il canto torato italiano. Saremo poi il 15 a Casavino con il gruppo che eseguirà tutta una serie di canzoni dei cantatori italiani. Il 21 luglio saremo a Poggio delle Rose con cover Nomadi e il 27 a Cermignano senza resa cover di Vasco Rossi. Il 29 sempre a Cermignano avremo la cover di Giovanotti e il 30 a Cermignano ci sarà invece, partiranno la stagione del teatro con le Muse. Il 13 agosto saremo a Montegualtieri con la Bottega del Sorriso e il 7 settembre a Santa Maria con il Carrozzone. Il 29, 30 e 1 luglio il Memorial Graziano Misantone che sarà naturalmente realizzato a cura della Proloco. Ci saranno anche il metà di luglio la manifestazione degli Alpini a Montegualtieri e poi avremo la tradizionale Sagra delle Fregnacce dopo la domenica di Ferragosto e per concludere a Pianevomano la Sagra delle Pappardelle che concluderà l'estate cermignanese.